Mi trovo qui a Firenze, a Palazzo Vecchio, dove si svolge la seconda seduta del Consiglio Metropolitano. Sono qui con il Sindaco di Firenze. Seconda seduta importante? Sì, perché ora entriamo nel vivo del lavoro della città metropolitana. Approveremo il regolamento che disciplina i lavori di questi primi mesi, che serviranno per varare il nuovo statuto, lo statuto della città metropolitana, poiché dal 1 gennaio l'ente sarà definitivamente insediato al posto della provincia. I nostri obiettivi sono molto chiari. Anzitutto portare a regime il risparmio dei costi politici legati al funzionamento della vecchia provincia e poi avviare da subito, fin nello statuto, quelli che sono gli obiettivi strategici della città metropolitana. Vale a dire la semplificazione del rapporto tra istituzione e cittadini, a partire dalla semplificazione della burocrazia, regole più semplici, il protagonismo dei comuni, perché la città metropolitana non è altro che uno strumento al servizio dei comuni, dei territori e dei sindaci. E infine un quadro chiaro delle competenze e delle responsabilità nel rapporto con lo Stato e con la Regione. La città metropolitana è un'opportunità di sviluppo ulteriore del nostro territorio, poiché qui a Firenze abbiamo tante aziende, abbiamo fabbriche importanti, abbiamo un tessuto di piccole e medie imprese e un patrimonio culturale inestimabile. Dobbiamo saperlo valorizzare, vogliamo valorizzarlo con ancora più determinazione.